Musica Quello che stiamo condividendo è proprio qualcosa che insegna anche a me, cioè è proprio ciò che è venuto a me per la trasformazione di tutta mia. Quindi sono io che vado a trasmettere, ma in qualche modo siamo qui a imparare tutti quanti della BTE che arriva in qualche modo. E questo come ho detto è una cosa che può sembrare, dico, un po'. Giustamente perché noi ci muoviamo, ci muoviamo su quei confini che per usare la metafora di Bateson, dove gli angeli esitano, ti muovi in quell'area lì che se ti sposti appena un po' di qua sei nella superstizione, se ti sposti un po' di qua sei nella New Age o nel dogmatismo spirituale o nel, perché la BTE usa lo sciamanesimo ma non è sciamanesimo. Ha una dimensione spirituale anche di sacralità devozionale se vuoi, ma non è ovviamente religione, non è un credo, è laico e così via. Ha mappe e modelli cognitivi e epistemologici, ma non è una psicologia cognitiva. In più, noi potremmo dire che ci sono tante BTE e così per ogni costellazione archiettifica potremmo dire. Però anche nella sua caratteristica c'è questo tentativo di essere il più possibile transculturale, transpersonale. La prossima posizione è la migliore posizione. Ma questa è la BTE. Cioè, la trasformazione incessante, la fruttura incessante, sì ok, sei lì ma trascendi, sì ok, c'è una dimensione sciamanica, ma, cioè, ma, sì ok, usi gli oricià, ma gli oricià sono anche nel parquet o nella macchina che guidi o nel navigatore in questa direzione, no, non è solo sull'altare e così via. Cioè, cerca di dare questa, non a caso biotrans energetica, c'è questa incessante fluire attraverso le posizioni. è soggetta al rischio di essere misunderstood, di non essere ben compresa se uno ne vede solo un pezzetto. Ah sì, lavoriamo con gli oricià, vero, però io dico che non è alla fin fine la cosa essenziale che tu in prima battuta, perché poi devi contestualizzarlo, devi dire gli oricià, ma intanto gli oricià che non coincidono con il lavoro che fa la tradizione con gli oricià, perché sono espansi transculturalmente e transpersonalmente in principi organizzatori archetipici, no? Però questi principi organizzatori archetipici pervadono ogni cosa. Vedremo questa diade, Puer e Senex, anzi, Senex e Puer, questa via in su e via in giù. Cioè, se noi abbiamo come riferimento la via in su e la via in giù, se è vero che stiamo lavorando con principi archetipici, lavorare con il Puer e Senex è lavorare con principi archetipici, dove il Puer è Eros e il Senex è Agape, per esempio. Ma è un'infinità di altre cose, come vedrete, come magari vedremo poi dopo, è un'infinità di altre cose, perché il Puer è l'energia potenziale e il Senex è l'energia cinetica, cioè, e così via. Il Puer è l'inizio e il Senex è la fine, il Puer è la potenzialità e questo è il compimento. E un'infinità di altre dimensioni. Ovviamente il Puer è il bambino e il Senex è l'anziano e quindi c'è da una parte la saggezza e dall'altra l'innocenza. Quindi tra innocenza e saggezza c'è tutto l'aspetto del vivente. Tra potenzialità e realizzazione c'è tutto l'aspetto del vivente. Tra basso e alto c'è tutto l'aspetto del vivente. Tra Eros e Agape c'è tutto l'aspetto dell'amore, quindi della vita. Padroneggiare l'amore, padroneggiare da Eros a Agape tutto quello che c'è in mezzo. Entrare in questa dimensione è entrare in una complessità vastissima. Per questo è che è importante comprendere il concetto di principi organizzatori. Noi possiamo permetterci la complessità se abbiamo uno sguardo che coglie, che unifica. Cogliere l'archetipo, in questo caso cogliere il principio unificante della via in su e della via in giù ci consente di entrare nella complessità di un processo voce svegli, fluendoci dentro, non cercando di aggrapparti a qualche cosa, a un protocollo, a una strategia, a cosa faccio adesso. Fluisci e riconosci il principio archetipico in gioco o che tu decidi di fare venire sul palcoscenico. Perché se è vero che il self, il principio unificante, se è vero che tutto è uno e tutto è coscienza e che il tuo sguardo fa collassare la funzione d'onda, se tu decidi o guardi la vita in termini di via in su e via in giù di pure Senex, vedi il processo secondo questo sguardo. Però sai anche che non è l'unico modo di vederlo. Se lo guardi dal punto di vista del principio della giustizia, lo vedi in un altro modo. Se lo guardi dal punto di vista del guerriero o della madre, lo vedi in un altro modo. La specificità di questo lavoro con pure Senex è che ci sono dei principi organizzatori, degli archetipi che sono appunto, si dice, degli orisha, cioè degli elementi naturali. Pure Senex è un principio che attraversa tutti gli altri elementi. Perché c'è un pure Senex di Shangho, quindi del cavaliere, c'è un pure Senex del guerriero, c'è un pure Senex della madre, c'è un pure Senex della donna. Di qualsiasi archetipo c'è un pure Senex, perché indica il principio evolutivo di ogni processo. E dato che la nostra metodologia ti dice, guarda che non lavori sul problema della persona, ma lavori sul processo che si realizza in un campo triadico, che riguarda mettere il campo, gli strumenti che devi avere a disposizione sono ben diversi da molti degli strumenti classici. Molte delle cose che possono essere utili, se tu hai uno sguardo diadico nella quale tu entri in relazione per curare l'altro, per risolvere un problema, sono da superare o sono degli ostacoli che tu vedi. Non è che non vedi che c'è un problema o non vedi che quel problema lì è una manifestazione di una psicopatologia o di un attratto di personalità, ma non ti serve, a meno che ti dia delle informazioni, ma lo trascendi e includi nel qual è la regolarità che è in gioco in questo processo. Qual è il prossimo, the next position, qual è il prossimo passo all'interno del processo che devo compiere? E soprattutto questo prossimo passo non sono io a compierlo, ma è l'archetipo che lo compie. Cioè, se è vero che tutto è un flusso interconnesso di eventi barra coscienza, il processo sta andando verso l'ordine, secondo una modalità che io devo cogliere. Se io non sono in sintonia con quello che sta succedendo, entro nell'estoreotipo, entro, blocco, mi separo. Cioè, separarsi dal sé è separarsi anche dall'archetipo che è in gioco, dall'ordine che sta agendo. Essere in contatto con il sé, con il processo, vuole dire essere in contatto con l'ordine che sta agendo e allearsi a quell'ordine. Lasciare che ogni via, la via in su, ogni pure tende al senix, ogni senix tende al pure. Ogni potenzialità, ogni seme vuole diventare pianta. Ogni pianta fa i frutti che cadono e così via. È innato, è come dire, come prende, si dice anche banalmente, non è che puoi fare sbocciare un fiore aprendo gli petali. Sarebbe un po' lo stesso intervenire su un processo e aprire i petali del fiore. Crea le condizioni perché il fiore sbocci. E in questo fiore che sboccia, tu puoi vedere la giusta azione. Se lo considero dal punto di vista degli, devo dare la giusta acqua, metterlo nel giusto posto. Tu puoi vedere la via in su e la via in giù, nel senso che, ok, siamo all'inizio di primavera e i boccioli stanno incominciando a venire fuori. Allora si tratterà che io rispetti il fatto che è un bocciolo, non voglia che sia un fiore già completamente aperto. Piuttosto che, quindi mi alleo, riconosco in che fase del processo è, riconosco come il processo sta agendo e mi alleo al processo. Mi alleo al sé. Io scompaio, passaggio dallo zero, il nostro trance essenziale scompaio, il resto diventa. Togliti di mezzo, stai in contatto con il processo e diventa il processo. Questo è, alla fin fine, l'essenza della BTE, il trance essenziale. Man mano che noi conosciamo la fenomenologia degli archetipi e abbiamo le metodologie per allearci a questa fenomenologia, ecco che siamo al servizio del processo di trasformazione. Ecco che siamo al servizio Johnny Puer nel suo viaggio verso il Senex. Se non tornerete bambini, non entrerete nel regno. Via in su la cronicizzazione nel Senex. È il Senex che torna bambino. Quindi ha anche la comprensione di cosa significa non cronicizzarsi nella realizzazione, ma stare in questo processo di incessante trasformazione. Qual è il prossimo passo? Sto attento a riconoscere qual è il prossimo passo. Punto. Tutto quello che devo fare è riconoscere qual è il prossimo passo. Che il Senex vuole che ho compie. Così facendo io mi accorgo che alla fin fine tutto è terapeutico, che tutto è sacro, che sono all'opera in ogni istante gli orisha, i principi organizzatori, che il Senex vuole andare verso l'armonia e l'equilibrio. Per questo che aprire le scatole, la psicologia, tanto più come concepita accademicamente, cosa non è psicologia, cosa non è terapeutico. Ci sono talmente tante cose da fare nell'allearsi alla complessità dell'esistenza. Abbiamo talmente tanti alleati in ogni istante che, e qui viene un altro degli aspetti fondamentali, che è gli stati di coscienza, l'espansione della coscienza. Perché io posso cogliere, io colgo le cose che succedono, i processi o anche quello che uno ci sta dicendo, in base allo stato di coscienza nel quale sono. Proviamo a non considerare lo stato di coscienza. Qualcuno dice qualche cosa e io cerco di capirlo. E credo che quella cosa che dice sia quella cosa lì. Se io considero il stato di coscienza, mi accorgo che quello che una persona dice intanto è un dialogo. È quello che la persona dice più quello che io comprendo, dicevo. E poi è in base al stato di coscienza nel quale lui è stato e al stato di coscienza nel quale io sono. Io cambio il stato di coscienza, quindi cambio anche il sguardo e colgo delle cose che non coglievo prima o viceversa. O non colgo delle cose che ci sono. Quindi sarà anche importante che io padroneggio il mio stato di coscienza, non mi focalizzo su quella cosa che viene detto fatta, su quel fatto lì, ma che riconosca lo stato di coscienza nel quale sono. Per quello che se io sono di fronte a un paziente comincio a pensare, dunque, cosa posso fare per risolvere il suo problema. Questo cosa posso fare per risolvere il suo problema. Mi cronicizza in uno stato di coscienza, ovviamente quello razionale, ma lo stato di coscienza razionale mi cronicizza in uno stereotipo dell'archetipo. Magari nello psicoterapeuta ha le prime armi che sta cercando di risolvere il problema di una persona. E lo psicoterapeuta ha le prime armi che sta cercando di risolvere un problema, magari per sentirsi, sì dai che sto imparando, sono bravo. E quello che mette nel mondo è questo. Se io mi apro, sto zero, resto in contatto, io resto nella presenza del trans, riconosco quello che sta succedendo, le forze in gioco, quel processo avviene da sé, io mi trovo di mezzo. A quel punto, ovviamente, anche io mi curo, si cura il campo, si cura il processo, perché io do uno spazio, creo un'opportunità dentro di me, perché le qualità più elevate, le risorse si manifestino. Il mio sguardo si espande e veda la risposta che c'è in ogni domanda. Ogni problema si vuole risolvere. E ci dà tutti gli elementi, dobbiamo allearci agli elementi che ci dà, togliendo di mezzo le cronicizzazioni, gli attaccamenti, le resistenze, tutto ciò che impedisce al problema processo di compresi. Se è vero che la via in su e la via in giù si compie sempre, se è vero che il puere e il seno si compiano sempre, applichiamolo al problema. Cosa vuol dire che la via in giù e la via in su si compie? Uno è arrabbiato, se io lo vedo come la rabbia, qual è un antisociale che è arrabbiato con il mondo, qual è il protocollo per curarlo? Se io vedo la rabbia come un seme di potenzialità, che non chiede altro che sbocciare ed evolvere, io riconoscerò la potenzialità in quella rabbia. E poi in base allo sguardo che voglio dargli, ok, vediamo la componente pure di questa rabbia, come può trasformarsi in seme di realizzazione? Qual è la realizzazione di questo processo? C'è una potenzialità grezza, immaginiamo proprio il bambino, che innocentemente e inconsapevolmente vive qualche cosa. Man mano che io riconosco la vera natura di questo, incomincio a dirigerlo e mi accorgo che la rabbia in qualche modo è in potenza, che mi dice del mio desiderio di essere ascoltato piuttosto che visto, allora incomincio a trovare le parole per essere ascoltato e visto, allora incomincio ad aumentare la mia autostima, e incomincio a dire ciò che va detto, e incomincio a vivere un percorso di sentire una certa autoaffermazione, che mi dà una certa autostima, che mi dà un certo senso di compimento e via di seguito. Questo processo è la via in su della rabbia, però magari non riesco a farlo, perché sono troppo identificato con la rabbia. Mi ricordo, io terapeuta, che c'è una via in giù, mi ricordo che io posso attingere, non sono ancora lì, ma posso attingere alle dimensioni della compassione, della pazienza, della comprensione, dell'accettazione di me. E io, terapeuta, che vedo il processo, faccio discendere delle qualità dell'agape, delle qualità da Senex, e le metto in contatto con. E diventano la medicina che può favorire il processo di trasformazione della rabbia. E tutto questo è un... espandere la coscienza attraverso, però, delle mappe. Io espando la coscienza e vedo, per esempio, la via in su, la via in giù. Vedo il saggio dentro il bambino spaventato, impaurito, arrabbiato. C'è già un saggio che non si è ancora manifestato. Io lo vedo e lo chiamo, lo introduco nel campo, e quanto più questo lo faccio con tutto me stesso. Perché io posso dire alla persona, però cerca di comprendere, potresti avere un po' più di benevolenza nei confronti di tuo padre, piuttosto che prova ad accettare che ti ha fatto questo. E ovviamente questo è un livello superficiale di intervento. Se io entro in quello stato, guardo la persona da quello stato, incomincio io ad accettare, ad accogliere amorevolmente, con compassione, introduco questo campo, introduco questa vibrazione. E poi magari incomincio a lasciare parlare questa dimensione più elevata. E incomincio a raccontargli come potrebbe essere. O incomincio a accoglierlo, a dare a questa compassione, a questa rabbia, la mia compassione. Oppure incomincio a insegnare a lui, ad ascoltare, rendersi conto che può accogliere, che è accolto dalla madre eterna. E che quindi può lasciarsi accogliere. E che quindi a suo modo lo stesso può accogliere questo ragazzino incalzato che ha dentro. Io ho a disposizione una complessità di strumenti che però hanno un potere diverso. Se io sono nel trance del Senex, una delle fondamentali differenze nel lavoro con gli archetipi, per esempio gli unghiani, è che tu incorpori il saggio che nella tradizione si chiama Pretoveglio o Pretoveglia. Incorpori il Senex nel tuo sguardo, nella tua parola, nella tua voce, nella tua postura, nel tuo ritmo, nel tuo respiro, nel tuo stare, la presenza, il ritmo che emanano, i tuoi corpi in sintonia, il tuo sguardo, il tuo tocco, la tua voce. È una medicina. Perché una delle cose, una delle strutture di base della BTE è la triade sciamanica. E perché diciamo che la BTE è sciamanica in qualche modo? Perché alla fin fine, quello che fai è porti la medicina in contatto con l'ostacolo e scompare all'ostacolo e lascia agire la medicina. Aiuti la persona a scomparire all'ostacolo e lascia agire la medicina. C'è la grazione incazzata. Dentro di te, fuori di te, in lui, crei le condizioni per richiamare, per esempio, la medicina della compassione. E crei le condizioni con la parola, con lo sguardo, con una pratica, con un canto. Perché la medicina della compassione arrivi in contatto con la sua rabbia. A quel punto c'è la rabbia e la compassione. E tu inviti la persona, scegli, per esempio. A quel punto la faccenda è scomparire la rabbia e lasciare agire la compassione. In qualsiasi modo tu voglia farlo. Cioè la metodologia poi è le varie pratiche. che tu conoscerai man mano. Impieghi delle pratiche per fare questo. Può essere il respiro, può essere il canto, può essere il corpo del sogno, può essere l'autocaptazione, può essere qualsiasi delle pratiche. I suoni, il BTS sound. Qualsiasi delle pratiche imparerai per fare agire la compassione sulla rabbia. Perché la persona scompaia la rabbia e scelga la compassione. Oppure le categorie maieuri, le parole che dici, le fasi dialogiche, tutto il tuo intervento anche verbale. Però l'approccio verbale, se tu hai dietro, ok, io con le mie parole non sto semplicemente parlando ti. Sto dicendo delle parole magiche che favoriscono l'azione della medicina. Che favoriscono la triade sciamanica che si compie. Sto facendo un lavoro sciamanico perché sto chiamando la medicina della compassione. Sto invitando a scomparire la tua rabbia, a lasciare agire la compassione. Quindi sul parcoscenico magari ci sono delle parole. C'è un dialogo che io faccio con te. Ma dietro le quinte c'è l'azione di una struttura originaria sciamanica. Perché sciamanica? All'origine di ogni processo di guarigione c'è una medicina in contatto con un problema. Il bene col male, banalmente. Una medicina in contatto con il problema è la scelta di avere un atteggiamento che fa scomparire, fa che tu non scelga il male mal bene, detto proprio in modo molto banale, che tu riesca a scomparire la rabbia e a far entrare dentro di te la compassione che dissolve la rabbia. in potere personale, in affermazione, in realizzazione e via di seguito.